Un buon pomeriggio dalla redazione di live, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano non può che vedere la questione relativa alla bonifica della Caffaro e la buona notizia arrivata nella serata di ieri, ovvero l'assegnazione, sebbene ancora in via provvisoria dell'appalto per l'operazione di bonifica del sito di interesse nazionale di Via Milano e Via Nullo a Brescia. Si spera che possa essere questo il passo decisivo e finale. Non siamo ancora giunti alla fine, al momento in cui si potrà dire che l'aggiudicazione è definitiva, però la loggia ha fatto sapere che, almeno per il momento, la bonifica del sincaffaro è stata aggiudicata in via provvisoria. Proprio in queste ore si è infatti conclusa la valutazione delle proposte da parte della Commissione con la scelta condivisa dal nuovo commissario Fasano. Questa decisione, approvata da tutti i membri della Commissione, passata all'unanimità, è andata sul Consorzio Temporaneo di Imprese, formato da Grintesis, NICO e ACR. Dopo le verifiche di Rito, nelle prossime settimane, l'Iter si concluderà con l'aggiudicazione definitiva, a cui seguirà il contratto d'appalto che consentirà, aggiungiamo noi finalmente, l'inizio dei lavori. Tante le reazioni della politica a questa decisione, all'arrivo di questa notizia e, per una volta, la soddisfazione è stata unanime. La notizia dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la bonifica del sincaffaro di Brescia ha inevitabilmente smosso la politica con reazioni giunte un po' da ogni schieramento. Il sentimento comune è la soddisfazione per un passaggio che si spera possa essere quello decisivo per mettere la parola fine a una storia fin troppo lunga e travagliata. Il percorso fino a qui non è stato semplice ed è risultata fondamentale la collaborazione efficace fra tutti gli enti coinvolti, senza la quale oggi non ci troveremmo di fronte a questo primo imprescindibile traguardo, hanno detto il sindaco di Brescia Laura Castelletti e l'assessore all'ambiente Camilla Bianchi. Ora tutti noi possiamo iniziare a immaginare per quell'area un destino diverso, perché finalmente la più terribile delle ferite ambientali della nostra città inizierà ad essere sanata. Più politico invece il commento di Fabio Rolfi, che ringrazia il governo per i fondi messi a disposizione, chiedendo poi a Castelletti un gruppo di lavoro per creare un progetto sperimentale per la realizzazione del bosco. Non è detto che non si possa fare, aggiunge, bisogna lavorare in squadra con Ministero, Regione e Parlamento per costruire un progetto pilota. Al comune di Brescia, continua, serve un po' più di coraggio per rilanciare l'immagine della città. Non poteva mancare, ovviamente, la Regione e parte in causa con l'assessore bresciano Giorgio Maione. Oggi una grande notizia. Parte la bonifica della Caffaro, del sito di Via Milano e credo che vogliamo restituire con questo una parte importante della città. Il percorso è ancora lungo, ma ben istradato. Oltre alla bonifica del Sincaffaro, l'altra grande e attesissima opera per il territorio bresciano e non solo della città è quella della realizzazione del nuovo carcere, quindi della dismissione di Canton Mombello. Nelle scorse settimane tanto abbiamo parlato dello sblocco della situazione, anche in questo caso istituzioni e politica hanno esultato, però i nodi da sciogliere sono ancora davvero tantissimi e quindi la loggia sta pensando a un tavolo bipartisan. Un tavolo comune bipartisan che coinvolga comune di Brescia, amministrazione penitenziaria, DAP e Ministero della Giustizia, ma non solo perché i ministeri coinvolti sarebbero anche altri, come il MIT e il Ministero delle Infrastrutture. Il rischio vero è che senza questo tavolo il Ministero proceda con la realizzazione del nuovo carcere, ma su quel vecchio progetto che tutti o quasi hanno detto essere totalmente inadeguato. Quel progetto che vede la realizzazione del nuovo carcere all'interno dell'attuale Verziano, cancellando quegli spazi preziosi esterni che sono una peculiarità alla quale non è possibile rinunciare. Del resto, fanno sapere da Roma, il Ministero ha messo i soldi sull'unico progetto di realizzazione del nuovo carcere e non ha alternative. Il progetto di espansione esterna al carcere di Verziano con l'utilizzo delle aree circostanti al momento è solo un desiderata di tutti, ma le aree, a parte la destinazione a carcere, sono in questo momento dei privati e non delle disponibilità del comune di Brescia, che non può del resto acquisirle senza un impegno formale del Ministero e dell'amministrazione penitenziaria a utilizzarle per costruire il nuovo canton Mombello. Un ginepraio, insomma, non di facile soluzione, senza contare che nella partita entra anche la futura destinazione della struttura che ospita ora il Nerio Fischione. Un ginepraio che la loggia sembra decisa a sbloccare, prendendo l'iniziativa di creare un tavolo bipartisan con il coinvolgimento dei deputati bresciani per portare tutti gli attori al confronto, ribadire il suo impegno, definire impegno e competenze di tutte le strutture e istituzioni coinvolte nell'obiettivo di dare a Brescia un carcere moderno al passo con i tempi e che risolve il problema in modo definitivo invece che crearne uno nuovo. La cronaca ora con un vasto incendio divampato nella serata di ieri a Piancamuno che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco praticamente per tutta la notte. Un vasto incendio è divampato martedì sera a Piancamuno, ci è voluta tutta la notte per aver ragione delle fiamme e soprattutto evitare che si propagassero. L'allarme è stato lanciato attorno alle 19.20 per un rogo a un'abitazione di via Alessandro Volta nel comune della Valle Camonica. Fortunatamente non sono state segnalate persone ferite oppure intossicate. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due autobotti e un'autoscala. In supporto è stata richiesta anche la presenza di un'ambulanza con il personale sanitario del 118. Come detto, non è stato facile riuscire ad avere la meglio sulle fiamme e i pompieri hanno lavorato per tutta la notte proseguendo dopo lo spegnimento con tutte le operazioni necessarie per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Sono ancora ignote le cause che hanno innescato l'incendio. Ora indagano i carabinieri. I furti in abitazione è l'ennesimo episodio nella nostra provincia. Un inseguimento fra Rovato e Coccaglio. I malviventi sono riusciti a fuggire ma i carabinieri hanno trovato sull'auto, abbandonata proprio da questi ladri, diversi gioielli e orologi. Un racambolesco inseguimento iniziato per le vie di Rovato nella tarda serata di lunedì. In fuga un Audi A4 dietro un'auto della polizia locale. La folle corsa dei sospettati all'interno del primo mezzo ha permesso di far perdere le loro tracce ma nelle ore successive una pattuglia dei carabinieri di Cologna ha ritrovato la vettura. Era abbandonata in via Grandi a Coccaglio e aveva ancora le targhe false poste dai malviventi per evitare l'identificazione. La perquisizione dell'abitacolo ha permesso ai militari di recuperare diversi oggetti preziosi fra cui diversi orologi e gioielli che con tutta probabilità erano frutto di una rapina messa a segno poco prima. Un fenomeno, quello dei furti in abitazione o comunque in attività commerciali che nelle ultime settimane pare sia in crescita. Importante quindi prendere tutte le precauzioni del caso per ridurre al minimo i rischi così come è consigliato dai carabinieri stessi in un video di sensibilizzazione. Cambiamo argomento nella giornata di domani ci sarà un altro l'ennesimo sciopero del trasporto ferroviario che potrebbe creare ulteriori ritardi e cancellazioni nelle corse di Trenord. È stato programmato un nuovo sciopero per giovedì 14 dicembre a proclamarlo sono state alcune sigle sindacali e l'agitazione riguarderà anche il trasporto ferroviario. Per tale ragione potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni nelle corse dei treni regionali suburbani a lunga percorrenza di Trenord. L'azienda fa sapere che lo sciopero è stato indetto dalle 9 alle 17. È previsto che la mattina viaggino i treni con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 9 e arrivo a destinazione finale entro le 10. Essendo comunque giorni in cui si viaggia anche per raggiungere i luoghi delle vacanze attenzione al Malpensa Express che sarà a sua volta coinvolto. Lo scalo aeroportuale si potrà raggiungere con degli autobus sostitutivi da Milano. In ogni caso l'azienda di trasporto chiede ai passeggeri di tenersi informati in tempo reale attraverso i canali ufficiali, gli annunci e i tabelloni nelle stazioni. Torniamo alla città per scoprire anche cos'è una Call for Ideas una idea lanciata proprio nella giornata di ieri per creare il nuovo hub di comunità del quartiere Don Bosco. In buona sostanza è una progettazione partecipativa. La loggia chiede l'aiuto di tutti non solo degli abitanti del quartiere ma di tutti i cittadini di Brescia per provare a disegnare insieme questa nuova area dedicata alla socialità. È possibile mandare le proprie proposte da oggi e fino al prossimo 25 di gennaio ma tutti i dettagli ce li dice l'assessore Andrea Poli. Un hub che sarà nel quartiere Don Bosco ma sarà l'hub della città in realtà è un'iniziativa che qualifica il quartiere ma che ha una prospettiva molto più ampia che è quella di riuscire a raccogliere proprio in questo quartiere tramite anche la rigenerazione del polo scolastico un community hub dedicato alla cultura alla musica in particolar modo e allo sport che sia in grado appunto di essere veicolo per la crescita della città infatti la Cora 4 Ideas è aperta a tutti è aperta ovviamente a chi vive il quartiere ma anche a tutti gli altri cittadini della nostra città che devono immedesimarsi in questo progetto e dirci cosa vorrebbero trovare quando i lavori saranno finiti. Avete già pensato a una collocazione per questo hub? Beh, l'hub si collocherà più o meno in questi spazi nel senso di dire che tutta questa area verrà demolita e rigenerata insieme alla scuola sarà prospicente alla scuola perché i locali del community hub sanno anche funzioni delle attività scolastiche perché l'idea è proprio quella di far vivere una nuova esperienza di scuola ai ragazzi portando all'interno anche delle dinamiche culturali sportive in particolare in modo musicali perché una delle declinazioni principali del community hub sarà appunto la declinazione musicale dove troverà luogo anche il centro musicale Bresciano e lo sportello musica quindi troveremo in questi spazi la giusta collocazione anche la colloquia di idea serve in realtà a capire come strutturare gli spazi fisici perché in relazione alle attività che devono essere svolte andranno realizzati anche gli spazi compatibili e sul nostro quotidiano e sul nostro quotidiano online trovate anche tutti i dettagli su come e su che forma debbono avere queste domande come inviarle per partecipare a questo progetto collettivo lanciato dal comune di Brescia voltiamo ora pagina la scorsa notte è arrivata nonostante la pioggia nonostante il maltempo Santa Lucia e questo oggi è il giorno più felice per migliaia e migliaia di bambini bresciani è arrivato il giorno di Santa Lucia senza ombra di dubbio il più atteso dai bambini bresciani la notte più lunga dell'anno porterà infatti i tanto desiderati doni e i dolciumi che di prima mattina stamperanno enormi sorrisi prima dei consueti giri nelle case di parenti e amici per una raccolta che si spera sia sempre fruttuosa secondo Coldiretti in Lombardia saranno 330.000 i bambini che scarteranno i loro doni una tradizione estremamente radicata non soltanto a Brescia ma anche nelle province di Bergamo di Cremona di Mantova e di Lodi la giovane martire sottolinea Coldiretti è venerata sia dai cattolici che dai protestanti dalla Svezia alla Norvegia passando per Finlandia e altri paesi freddi con processioni di giovani ragazze canti e filastrocche dolci tipici e celebrazioni liturgiche in Italia si tratta del primo banco di prova delle feste natalizie secondo la tradizione nella notte del 12 dicembre arriva nelle case la santa protettrice della vista a bordo di un asinello volante carico di doni che continua Coldiretti i bambini attendono la mattina dopo essere andati a dormire presto nel timore che la santa li trovi ancora svegli si prepara un piatto sul tavolo con del cibo come fieno latte carote o farina con cui ristorare sia lei che l'asinello prima di andare a letto e in cambio Santa Lucia lascerà giocattoli caramelle e dolciumi e quasi come un regalo di Santa Lucia proprio questa sera gli appassionati di cinema e di motori bresciani potranno finalmente scoprire in alte prima il film Ferrari di Michael Mann lo ricorderete in parte girato anche nella nostra Brescia poco più di un anno fa con grandissima curiosità se non riuscirete ad accapparrarvi un biglietto per questa sera visto che sono praticamente sold out il film sarà in sala normalmente a partire da domani la lunga attesa è finita giovedì 14 dicembre il film Ferrari diretto da Michael Mann e girato anche in parte nella nostra città uscirà nel cinema di tutta Italia con un pizzico di orgoglio anche bresciano ma alcuni fortunati potranno scoprire la pellicola con un giorno d'anticipo quasi come un regalo di Santa Lucia infatti mille miglie multisala OZ hanno organizzato una speciale anteprima che si terrà alle 20.45 di mercoledì 13 nel cinema di Via Sorbanella per l'occasione gli appassionati di motori non solo si godranno il nuovo film ma avranno anche la possibilità di ammirare in esposizione un rarissimo bolide dell'epoca una Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti del 1955 poco più di un anno fa nell'ottobre del 2022 la mastodontica produzione hollywoodiana aveva preso possesso del centro storico di Brescia e più in particolare di Piazza Vittoria che era tornata indietro nel tempo di oltre mezzo secolo era stata enorme la curiosità in tanti erano riusciti a fare le comparse in molti altri si erano lanciati alla ricerca delle star protagoniste come Adam Driver o Patrick Dempsey ora si chiude un cerchio ed è il momento di andare in sala per vedere il risultato chi riuscirà ad accapararsi un biglietto ne restano pochissimi già mercoledì sera tutti gli altri nei giorni a venire il momento dello sport Brescia Calcio protagonista nell'edizione del notiziario di quest'oggi perché proprio poche ore fa la società di via Solferino ha annunciato la firma del primo contratto professionistico per due baby rondinelle volti che in buona sostanza sono già noti ai tifosi ma non soltanto in particolare uno che ha già trovato amplissimo spazio nelle rotazioni in campo in questa nuova stagione allora scopriamo chi sono il Brescia Calcio punta sui suoi giovani e su quel vivaio che poi è una mission del presidente Massimo Cellino e che già in passato ha saputo regalare delle soddisfazioni il club ha infatti annunciato ufficialmente la firma del primo contratto da professionisti di due baby rondinelle Riccardo Fogliata e Matteo Ferro il primo ha saputo guadagnarsi un minutaggio non indifferente in questa stagione cadetta scendendo in campo in dieci occasioni e riuscendo anche a servire un assist il secondo l'abbiamo visto per una manciata di minuti la scorsa domenica contro la Reggiana e già più volte è stato chiamato in panchina Brescia Calcio SPA è lieta di annunciare che i calciatori Riccardo Fogliata e Matteo Ferro hanno stipulato con le rondinelle il loro primo contratto professionistico recita la consueta nota diramata da via Solferino cresciuti nel settore giovanile del club sono arrivati in questa stagione in prima squadra e continueranno a scendere in campo con la V sul petto sino al 2028 termina qui questa edizione del telegiornale ma le notizie sempre aggiornate le trovate ovviamente sul nostro quotidiano online www.laibrescia.tv eccolo qua dove se volete trovate anche la diretta in streaming di e-live in questo piccolo box in basso a destra della home page visibile anche dai vostri tablet o smartphone se invece tutte le notizie le volete ricevere molto semplicemente con una notifica sul vostro telefono cellulare non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali telegram grazie per averci seguito anche quest'oggi l'informazione torna in tv come sempre questa sera a partire dalle 19 ora me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast stappi e Google Podcast e this e is